Chiamati a realizzare una vera gioia, si celebra domani la giornata per le vocazioni, quest'anno nel segno di San Giuseppe. E restando in tema, in Diocesi il primo eccomi per il giovane Samuele. Lunedì 3 maggio ricorre l'anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Cristo Re alla Spezia. E nell'occasione, il 3 maggio alle 18, il Vescovo Diocesano, Luigi Ernesto Palletti, presiderà la messa solenne, nel corso della quale si terrà anche la cerimonia di ammissione di un giovane seminarista, appunto, Samuele Bragazzi, tra i candidati al sacerdozio. A centropagina, quando l'oratorio parrocchiale diventa prezioso per vaccinare, sono state oltre 600 le persone vaccinate e alunni nei locali messi a disposizione dalla parrocchia. A fianco per una reale parità scolastica, la petizione delle scuole materne cattoliche, che accolgono circa 1.600 alunni e danno lavoro a più di 150 persone nello spezzino. Si tratta di una petizione per una reale gratuità e parità scolastica per la fascia di età fino a 6 anni. E restando in tema scuola, l'articolo di spalla è dedicato al Covid, alle emozioni e ai cambiamenti suscitati, appunto, nell'ambito scolastico, insegnanti a confronto in un incontro online. A fondopagina, la Chiesa della Neve a 120 anni, martedì prossimo, ricorre infatti questo anniversario, l'anniversario della dedicazione della Chiesa di Nostra Signora della Neve in Viale Garibaldi alla Spezia, consacrata il 27 aprile del 1901. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.